È proprio in un'ottica di convivenza e di amicizia che vi propongo di considerare la presenza di ragazzi e ragazze con disabilità dentro le vostre classi e nelle vostre scuole, con amicizia. Con amicizia. Questa presenza non è un problema da risolvere, ma è una grande opportunità da cogliere perché anche in questo caso la diversità è un valore. Perché vedete, relazionarsi da pari a pari, senza supponenza, con un compagno o una compagna di classe che ha una abilità diversa dalla nostra, è un fatto che arricchisce anche noi. Grazie.